Allora, oggi ultima lezione sulla programmazione dinamica Facciamo un'ultima fase solo di programmazione dinamica E da domani iniziamo il nuovo argomento che sono gli algoritmi noti Cioè nel senso vi farò vedere un po' di algoritmi noti che si applicano a vari problemi Cioè che si possono usare come pezzi di soluzione di altri problemi Ok, il problema che vediamo oggi di programmazione dinamica è un problema classico Che può essere utilizzato magari come template per sottosoluzione di altri problemi Che è il problema dello zaino Allora, il problema dello zaino Scusami Ieri ci avevi fatto una domanda su come di pensare per abbassare la complessità Di alberi e ce l'avevi lasciata come esercizio Ok, sì, magari se non me lo ricordo ricordatemelo alla fine Ok Ok Spero di ricordarmelo alla fine ma in caso ricordatemelo alla fine Ok, allora dicevamo Problema classico, problema dello zaino Abbiamo uno zaino Che ha una certa capacità massima di chili che può trasportare Chiamiamola C Ad esempio E abbiamo N oggetti E ognuno di questi oggetti Ha due proprietà Un peso PDI E un valore VDI Ok E ne abbiamo di questi qua N oggetti Ognuno con il proprio peso e il proprio valore Il problema è Voglio mettere alcuni di questi oggetti nello zaino Tale che lo zaino non si sfonda Cioè la somma dei pesi degli oggetti che mettono nello zaino Non deve superare la capacità dello zaino E voglio ottenere la somma di valori massima Ad esempio Se io ho uno zaino Che ne so di capacità 5 E ho tre oggetti Ad esempio uno che pesa 3 e vale 3 Uno che pesa 2 E vale Che ne so anche lui 3 E poi uno che pesa 4 E vale 5 Ok Ci sono varie cose che posso fare Posso mettere solo uno Posso metterlo solo questo Solo questo Solo questo Posso mettere ad esempio Questi due insieme Quello che pesa 3 e quello che pesa 2 Li posso mettere insieme Quindi come valore totale Prendo 6 E insomma Devo scegliere Un sotto insieme Tale che la somma dei pesi Sia minore o uguale Della capacità dello zaino E voglio massimizzare La somma dei valori Ok Questo è il problema Come al solito Questo ve lo dico già È una programmazione dinamica Ogni volta che c'è un Scelgo qualcosa Come ho detto ieri È un sentore Di programmazione dinamica Cerchiamo di risolverlo Cosa dobbiamo fare? La prima domanda Che dobbiamo fare È Qual è la domanda Qual è quindi Lo stato? Poi troveremo il caso base Poi troveremo Il caso generale Poi calcoleremo La complessità Allora Prima cosa Chiediamoci Qual è lo stato? Quindi mettiamo Che questo qua sia Un videogioco Come ho detto ieri E Troviamo Qual è Uno stato buono Mettiamo che stiamo giocando A questo gioco Quindi abbiamo delle scelte Da fare Le facciamo E proseguiamo E ci chiediamo Qual è Lo stato Minimo Che dobbiamo salvare Per Per avere Lo snapshot Del gioco In quel momento Quindi per poter Ripartire Tutte le informazioni Per poter continuare E Anche che sia Il minimo numero Di informazioni possibile Va bene Stavo dicendo C'è qualcuno Che vuole Provare a Trovare Qual è Lo stato E la funzione Cioè Qual è la domanda E qual è Lo stato Di questa domanda Non ci sono volontari E quindi Chiamiamo Come al solito Io assumo solo Che Quelli che hanno Il microfono smutato Sono quelli che possono rispondere Chiediamo a Tommaso Lo stato Può essere Tipo Quanto Zaino Riempito Quella potrebbe Essere Una informazione Sensata Cioè Non so se Avete sentito Prima Quando l'ho detto Pensiamo Che sia Un po' Come un Videogioco Quindi stiamo Giocando a Questo gioco Di riempire Lo zaino E vogliamo Trovare Questo stato Che ci dice Ci dà tutte le informazioni Per poter fare Un salvataggio E poi riprendere E che sia Il minimo possibile Probabilmente L'informazione Di quanto Si è riempito Lo zaino Finora Chiamiamolo V Questa cosa Potrebbe essere Utile Potrebbe essere Utile C'è qualcos'altro Che ci può essere Utile Per sapere Lo stato Del gioco Secondo me Allora L'indice Dell'oggetto Che abbiamo Che gli indici Degli oggetti Che abbiamo Inserito dentro Il valore totale E il peso Il peso Che finora Abbiamo occupato Nello zaino Ok Allora Chi eri scusa? Sono Dennis 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 Ah ok Bellissimo Ok Allora Dennis ci dice Se noi ci becchiamo Quindi L'insieme Degli indici Quindi che so I J K Eccetera Degli oggetti Che Abbiamo Preso Il valore Totale Chiamiamolo Viamme Uscolo Del Valore Che abbiamo Preso E Il Peso Di questi Oggetti Questa cosa È uno Stato In realtà No No In realtà No Perché In realtà No Perché Perché Non è chiaro A che punto Del gioco Siamo arrivati Nel senso Ok Questi sono L'insieme Degli oggetti Che abbiamo preso Ma Prendere un oggetto Non è l'unica scelta Che possiamo fare Possiamo anche decidere Di non prendere un oggetto Quindi Per complementare Quello che ha detto Giusto per dare Una Una figura Esatto Una figura migliore Il fatto È che Non ci serve Sapere Vabbè Teniamo questo Non ci serve Sapere L'insieme degli indici Ma ci serve Sapere O Possiamo Pensare Come se fossero Delle varie Booleane Quindi come se Facciamo finta Che Quelle che sono così È come se fosse preso E quelle che ci mettono Una sbarretta sopra Sono come non preso Quindi dobbiamo Avere l'insieme Di quelli che abbiamo Già considerato E per ognuno Di quelli che abbiamo Già considerato Sapere Se l'abbiamo preso O se non l'abbiamo preso Ok In questo modo Abbiamo ora Con questi dati Tutta la figura Dello stato di gioco Sì Perché Sappiamo esattamente Quali ci mancano Perché è L'insieme di tutti Meno quelli Che abbiamo già considerato Sappiamo Quali abbiamo preso Sappiamo il loro valore Sappiamo Il loro Peso Ok Questo stato Che che Corretto Cioè nel senso Che che Descrive effettivamente Uno stato Che possiamo utilizzare È troppo grosso È veramente Troppo troppo grosso Perché Queste qua Ok Sono Possiamo considerarlo Come un insieme Quindi Quindi mettiamo Variabili Ternarie Dove Tipo che ne so Zero vuol dire che non l'abbiamo ancora considerato Uno l'abbiamo considerato E l'abbiamo preso Due l'abbiamo considerato E non l'abbiamo preso Gli oggetti Gli oggetti sono n Quindi questo Sicuramente non possiamo mai riempire lo zaino Più di C Quindi potrebbe essere Il più C Quindi 3 alla n Che già è troppo Per tanto Per C È troppo Ora quindi Abbiamo uno stato valido Dobbiamo cercare di Ridurlo Dobbiamo cercare di ottenere qualcosa Che ci descriva sempre tutto quanto Ma che usi Meno bit Cioè che usi Meno informazioni Per esempio Vi do un'idea Vi serve veramente? Vi no Non serve È il È quello che È il return Cioè Quello che vogliamo trovare Perché non ci serve? Possiamo ricavarlo con gli altri dati? Sapendo gli indici Sapendo le cose che abbiamo preso Vi Li sappiamo Facciamo la somma La fia Esattamente Vi Non ci serve Perché Anche non salvandocelo Comunque Se abbiamo Gli indici Che abbiamo preso Ok Se abbiamo gli indici Di quelli che abbiamo preso Beh V ce lo ricalcoliamo In realtà In questa stessa ottica Anche V non serve Perché Stessa cosa Se facciamo la somma dei pesi Di quelli che abbiamo preso Non serve Con questo siamo rimasti Siamo rimasti solamente Con un 3 alla n Che è comunque troppo 3 alla n È esponenziale E Esponenziale non ci piace Perché abbiamo detto che 3 alla n Già per n Ugola 50 Non ce la facciamo Non riusciamo neanche a risolvere Zaini grossi 50 Ok Una strategia Per cercare Di abbassare Le complessità Di quando dobbiamo Prendere Un sotto insieme Di qualcosa È sempre quella Di Imporre noi Un ordine In cui li prendiamo Ovvero Il problema Non ci prescrive Che dobbiamo Tipo prima Fare la scelta Potremmo fare prima La scelta sul terzo Poi sul settimo Poi sul primo Poi sul secondo In un qualunque ordine Quindi possiamo scegliere Se prenderli o non prenderli Nell'ordine che vogliamo Noi Per cercare Di Migliorare La situazione E complessità Possiamo usare Questo trick Abbastanza generico Che è Imporre noi Un ordine Cioè Vogliamo Prima considerare il primo Poi considerare il secondo Poi considerare il terzo Poi considerare il quarto E così via Perché Questa cosa Ci migliora la vita Perché Perché questa cosa Ci migliora la vita Perché Noi Possiamo Dire Che Invece Intanto Invece di avere I presi e i non presi Se noi ci teniamo Solamente Un certo M Di quanti Ne abbiamo preso In considerazione Finora Sappiamo Che tutti quelli Prima Dovranno Avere Un certo valore Di preso Non preso E tutti quali dopo Dovranno avere Un valore Di Non l'abbiamo ancora Considerato Ok Quindi se noi Mettiamo in ordine Questi oggetti Quindi sono coppie P di P di Zero V di Zero P di Uno V di Uno Eccetera eccetera P di N N Meno Uno V V di N Meno Uno Ok Se noi Li mettiamo in ordine E invece di considerare Qualunque Cioè invece di considerare Un ordine a caso Li consideriamo Le scelte in quest'ordine Ok Allora ci basta Un intero M Per sapere Quali sono Quelli Su cui dobbiamo ancora effettuare Una scelta Questa era la prima Osservazione Quindi prima Osservazione Imponiamo noi Un ordinamento Per cercare di ridurre La complessità Dello Stato Cioè per La dimensione Dello Stato Ora Una cosa Che ha detto Se adesso comincio A riconoscere un attimo Le voci Mi fare Stefano È che Diceva A parte che Vi si può calcolare Dagli altri Ma V È Il Il valore Che la funzione Deve dare Ok Quindi È assodato Che è una cosa Che non ci dobbiamo tenere È un qualcosa Che Ricaviamo Che è la soluzione In qualche modo Sarà la risposta Alla domanda Che ci dobbiamo fare Quindi Vi Possiamo Non considerarlo Nello Stato A priori Possiamo dire Vi è la risposta Quindi non fa parte Sicuramente dello Stato Quindi a questo punto Siamo rimasti Che Cosa potremmo fare Potremmo tenerci Questo intero M Di quanti Ne abbiamo già considerati E Cos'altro ci serve Comunque ci serve Una cosa grossa 2 alla M Per Sapere Tipo Quale abbiamo preso Di questi M Ok E non ci piace L'abbiamo ridotto Comunque da 3 alla M A 2 alla M Quindi È tanto meglio Ma Vogliamo fare ancora di meglio Ma Abbiamo detto che V Non ci serve V sicuramente non ci serve Perché Sarò la risposta Ma allora Perché ci stiamo tenendo Questi due alla M Qual è l'altro dato Che ci serve Sapere per fare Le nostre scelte V è la risposta Un dato che non ci serve Quello che invece Ci serve È V V È il peso Degli oggetti Che abbiamo preso Perché ci serve Per sapere Quanta capacità Abbiamo ancora disponibile Nello zaino Che è C-V Però Questi due alla M Li stiamo tenendo Solo per questo motivo Cioè li stiamo tenendo Solamente Per conoscere Qual è il valore di V Ma allora Invece di tenere I due alla M elementi Possiamo nello stato Tenere solamente V Perché se Quei due alla M elementi Che abbiamo preso Li stavamo tenendo Solamente per sapere Qual è il loro peso Qual è il peso Dei presi Allora Perché tenerci I due alla M elementi Ci teniamo direttamente Il valore del peso Scusa ma Non ci servono anche Per dire Quali elementi Non possiamo Prendere ancora Perché quelli Che abbiamo già preso Non li possiamo Prendere un'altra volta Questo ce lo dice M Perché noi abbiamo Ordinato Gli elementi Ok E li stiamo considerando In ordine Quindi prima Consideriamo lo 0 Poi l'1 Poi il 2 M Ci dice Quanti elementi Abbiamo già considerato E sappiamo Tutti quelli Che abbiamo già considerato Li abbiamo già O presi o non presi E tutti quelli Che sono dopo M Non li abbiamo ancora considerati Quindi sono quelli Che dobbiamo considerare E M Sarà il prossimo Che dobbiamo considerare Ok Quindi Abbiamo trovato Il nostro stato M E V Dove M E quanti elementi Abbiamo già considerato Ok E V È il peso Degli elementi Che abbiamo preso Tra quelli Che abbiamo considerato Qual è la domanda F La domanda F È Se abbiamo Se consideriamo Solo i primi M elementi E E Cosa potremmo dire qua Questo qua In realtà Questo V È quindi La somma Degli elementi Che abbiamo già preso Ok Quindi Un modo In cui potremmo usare Questo V Ok Potrebbe essere Con questa domanda Quindi Se abbiamo già preso Se consideriamo Solo i primi M elementi E avessimo Uno zaino Di capacità V Quale sarebbe Il massimo valore Che ci possiamo portare A casa Perché quindi C'è questa cosa Dello zaino Che ha il massimo Capacità V Perché De facto Se noi Abbiamo trovato Una qualche soluzione Tra i primi M elementi Che ha Peso V È come Rispondere Al problema Qual è La soluzione Qual è il valore massimo Che posso portare a casa Che non sono i primi elementi Avendo uno zaino Di capacità V Cioè ovviamente noi Stiamo in qualche modo Facendo flettere La domanda Alla risposta Che abbiamo già trovato È come Che ne so State giocando A Freccette Cioè freccette Quelle che Lanciate sul muro Dove c'è il Non so I termini specifici Dove c'è il Cosa con i cerchi Non ho capito Ma vabbè È come un po' Lanciare prima i dardi E poi Disegnare intorno Per dire Che abbiamo fatto Centro Prima troviamo Una soluzione Ok Che pesa V Con i primi M elementi E poi La domanda diventa Ma se avevamo solo i primi M elementi E lo zaino Aveva la capacità V Qual è la Soluzione migliore È un po' Questo il ragionamento Stiamo facendo Il ragionamento Il contrario Cioè prima Troviamo una soluzione E poi ci facciamo Una domanda Che risponde A quella soluzione Che abbiamo trovato Però questa è una domanda Bella Comunque Perché Se noi poi ci facciamo La domanda Su NC Quindi Consideriamo N elementi Che sono tutti E consideriamo Uno zaino Di capacità C Che è lo zaino Che abbiamo In origine Beh la risposta A questa domanda È Proprio La risposta Al problema Ma N Non è zero? No Questo È quanti elementi Abbiamo considerato Se noi consideriamo Questo numero Di elementi Ok Cioè il primo parametro È quanti elementi Stiamo considerando Qual è la lunghezza Del prefisso Di elementi Che stiamo considerando Stiamo considerando I primi Zero Uno Due Tre Quattro Cinque 20 elementi Ok E quindi Stiamo considerando I primi M elementi E abbiamo Uno zaino Di capacità V Qual è Il miglior valore Che possiamo portarci a casa? Questa è la domanda Quindi La domanda Per il problema Generale Beh È N Perché Dovremmo considerare Tutti gli N Elementi Ok Sì Ok Bene Quindi questa è la domanda Chiara la domanda? Spero di sì Quindi Prossimo step Ora abbiamo la domanda Abbiamo lo stato Il prossimo step È trovare Il caso base Qual è un caso Talmente semplice Che bla 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 Qual è un caso Talmente semplice Che possiamo Risolverlo In modo arbitrario Il minimo peso Di un oggetto Qual è? Scusa? Il minimo peso Di un oggetto Ma anche No dai Facciamo Facciamo che I PD Per Solo per Non avere Allora perché Sicuramente Per non avere Problemi banali Facciamo che I PD Possono andare Da 1 Fino a C Perché Se pesasse 0 Non avrebbe senso Perché lo prenderemo sempre Se pesasse più di C Non avrebbe senso Perché non lo prenderemo mai I valori Invece Vanno Allora intanto Anche i valori Minimo 1 Perché se valgono 0 Li possiamo scattare Alla priori Ok Quindi I PD Sono tra 1 E C E i V Sono tra 1 E tanto Quantifichiamo tanto Possiamo dire Tipo che ne so 10 alla 9 1 miliardo Ok Allora Allora Un caso base Può essere Secondo me Se la capacità Dello zaino È uguale a 1 Andiamo solo A prendere L'oggetto Anzi No Se è uguale a 1 E no Non c'è qualcosa Di ancora più facile Di uguale a 1 Uguale a 0 Uguale a 0 Ah Poteva anche essere 0 La capacità Certo Questo qua è il constraint Su Come si chiama Sui pesi Non sulla capacità Ma il caso base Più che altro È quando Abbiamo un zaino pieno Quando Quando W E E E E E E E E C No Non è un caso base Cioè il caso base È qualcosa che sappiamo risolvere Semplicemente Se V è uguale a C Ok V abbiamo detto Che è una capacità Dello zaino E attenzione La domanda No è vero Sì sì È che V la sta trattando Come capacità Dello zaino Il caso base Invece è qualcosa Di semplice È qualcosa che sappiamo Risolvere istantaneamente Se noi sappiamo Che I pesi devono essere Almeno uno Allora Non importa Quanti elementi Stiamo considerando Non importa Se la capacità Dello zaino è zero Il valore massimo Che possiamo prendere è zero Sì sì Perché se lo zaino Non può portare niente Allora non possiamo Mai prendere niente Ok In realtà C'è un altro caso base Che ci serve Allora Fatemi un attimo Mettere le cose In posti Più consoni Tipo qua Ok C'è un altro caso base In realtà che ci serve Ci serve Due casi base Uno Per il peso E un altro Ci serve Per il numero Di elementi Che stiamo considerando C'è un caso base Per il numero Di elementi Che stiamo considerando F di zero E W Vuole zero Esattamente Se stiamo considerando Zero elementi Beh la cosa migliore Che possiamo fare E prendere Prendere zero elementi Perfetto Questi sono i casi base Questi sono i due casi Semplicissimi Che sappiamo risolvere Arbitrariamente Quello che vogliamo fare Adesso L'ultimo step È trovare Il caso generale Cioè Noi possiamo Sempre assumere Cioè vogliamo In qualche modo Semplificare il problema Quindi Semplificare il problema Vogliamo che Vuol dire che dobbiamo O abbassare M O abbassare V O entrambi Ma almeno uno dei due Dobbiamo abbassarlo Per avere un problema Più semplice Quindi vogliamo Trovare la soluzione Per M e V Sapendo che abbiamo A disposizione Le soluzioni Per tutti i problemi Più semplici Ok Allora Se noi stiamo Considerando I primi M elementi Vuol dire Che noi Le soluzioni Per M meno uno elementi Ce le abbiamo già Ok Perché sono problemi Più semplici Durante la ricorsione Possiamo sempre assumere Che le soluzioni Per i problemi Più semplici Ce le abbiamo Ma allora Cosa vuol dire Che in realtà Noi qua stiamo facendo Un'unica scelta Ovvero Vuol dire Vuol dire che Avremo Già trovato Qual era la risposta Per M meno uno elementi Allora Vuol dire che Le scelte Noi dobbiamo concentrare Le scelte La scelta che stiamo facendo Solamente sull'elemento M meno uno Quindi La coppia P di M meno uno V di M meno uno Questo è il punto Dove ci dobbiamo concentrare E Come al solito La cosa che dobbiamo fare È chiederci Quali sono Quali sono Le possibili scelte Che possiamo fare Con questo elemento Beh Sono due O lo prendiamo O non lo prendiamo Non possiamo fare altro Ora Quindi ricordiamoci La domanda è Stiamo considerando Il primo elemento Ok Quindi stiamo considerando Solo M meno uno E lo zaino Capacità V Domanda Possiamo sempre Sempre farle entrambe Queste scelte Se abbiamo abbastanza Spazio nello zaino Lo possiamo prendere Altrimenti Se la capacità Che ci è rimasta Nello zaino Quindi W È più piccola Del peso Non possiamo prendere Perfetto Allora C'è una scelta Che possiamo fare sempre Che è Non prenderlo Non prenderlo Possiamo farlo Sempre Invece c'è una scelta Che possiamo fare Solamente se La capacità Dello zaino Quindi W È maggiore o uguale Di PDM Meno uno Perché? Perché se lo zaino È più piccolo Se la capacità Dello zaino È più piccola Del peso Di questo oggetto Beh Non lo possiamo prendere Ma allora Cosa vuol dire? Che Che il caso generale Sono due situazioni O Non lo prendiamo Ok? E allora Se non lo prendiamo Cosa succede? Che il valore Sarà Quello di Lo stesso Di aver considerato Meno uno elementi Con capacità V Per forza Perché Non lo abbiamo preso Quindi Non è cambiato niente Nel riguardo Della capacità Dello zaino E Questo elemento Non l'abbiamo preso Quindi possiamo considerarne Uno in meno Questo Se V È minore Di PDM Meno uno Ok? Altrimenti Cosa dobbiamo fare? Abbiamo una scelta Stiamo cercando Di massimizzare Il valore Ok? E cosa facciamo Allora? Diremo Che Nell'altro caso Quindi se V È maggior o uguale Di PDM Meno uno Sarà il massimo Tra O La stessa scelta Di prima Ovvero Non lo prendiamo Quindi F Di M Meno uno V Ok? Questo è uguale a prima Cioè non l'abbiamo preso Oppure Cosa possiamo fare? Possiamo prenderlo Ma allora cosa succede Se lo prendiamo? Succede che Ne acquisiamo il valore Quindi V Di Cioè V di ce l'abbiamo In più Come si è trasformato Adesso il problema? È come se Questo oggetto Possiamo non considerarlo più Perché l'abbiamo preso Ok? Quindi consideriamo solamente I primi Meno uno Ed è come se Lo zaino Si fosse ristretto Del peso Di A parte che questo qua Non è V di Pardon È V di Meno uno Ok? È come se lo zaino Si fosse ristretto Di P di M Meno uno Perché se noi ci mettiamo Dentro un oggetto Che pesa Questo certo P Beh allora È come se adesso Il nostro zaino Avesse capacità V Meno P Di M Di M Meno uno Quindi sarà Il valore dell'oggetto Che abbiamo preso Più Consideriamo tutti Quanti gli oggetti Prima E gli diamo Uno zaino Che non ha più capacità V Ma ha capacità V Meno P Di M Meno uno Chiudo questo Chiudo questo Altrimenti E con questo abbiamo fatto Questo risolve il problema Tendenzialmente Questa è la soluzione Separo un attimo Questi sono i casi base Ok Questo è il caso generale Domande? Sì Io volevo chiedere una cosa Ma Questo M Questo M Che Quanti ne consideriamo È un po' come dire Quanti ne mancano Però In realtà N M Quanti ne mancano N Cioè nel senso Si inizia dalla fine In questo modo Come se si inizia Sì in questo modo Come se si iniziasse dalla fine In realtà Si può fare Si può fare Si si può fare in entrambi i modi Oggi è uscito così Oggi è uscito così Ma in realtà perché Questo è il modo Cioè se cerchi online Come si fa Lo zaino Che in inglese è Il knapsack problem Di solito è così Però Nessuno ti vieta Di girare l'indice Di fare quindi È la stessa cosa È la stessa cosa Sì Ok Perché no Perché Magari non so È più facile In altre situazioni Ma se per te È concettualmente Più logico Più semplice Va benissimo Cioè Ovviamente quando Cerchiamo Lo stato E come girare la cosa Facciamo sempre la cosa Che ci è più comoda a noi Sì perché Ormai mi ero un po' Abituato con Pensare a quanti ne mancavano Quindi mi ero trovato Un po' disolivato Ok Sì 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 Comunque va bene anche Farlo con quanti ne mancano Non cambia assolutamente niente Scusami Mi potresti ripetere Cos'è M? Allora M È Quanti elementi Stiamo considerando Anzi M Se consideriamo i primi M elementi Ok È questo M Cioè M è Cioè F Sta chiedendo Se consideriamo i primi M elementi Ti ricordo che gli elementi Li abbiamo ordinati In un qualche ordine Che abbiamo scelto noi Non ci interessa Però sono ordinati Quindi se consideriamo Solo i primi M elementi Abbiamo ordinato il peso Di quegli elementi Scusa? Abbiamo ordinato il peso Di quegli elementi No Gli abbiamo dato un ordine Non ci interessa che ordine Ah sì sì È anche un random shuffle Non ci interessa Semplicemente Gli abbiamo dato un indice Cioè abbiamo detto Tu sei l'elemento 0 Tu sei l'elemento 1 Tu sei l'elemento 2 Ma non ci interessa l'ordine Ma nell'input Sono già ordinati Esatto Oppure possiamo ottenere già L'ordine dell'input Nel senso Non è Importante E semplicemente Gli abbiamo assegnato Un qualche ordine arbitrale Ok È solo per Perché nel senso In matematichese Sti elementi Non avevano un ordine In matematichese Questo qua era Un insieme di elementi Ma non c'era Elemento 0 Elemento 1 Elemento 2 Erano elementi Esce fuori ovviamente Automaticamente Che quando Scrive un programma Che prende in input Un vettore di roba Ovviamente quel vettore Ha già un ordine impelicito Che è l'ordine in cui appare Quindi si può benissimo Usare quello Noi che invece Adesso stiamo ancora In un piano più astratto Esplicitiamo il fatto Che abbiano un ordine Semplicemente Ok Quindi M Stiamo considerando I primi M elementi Ovviamente Ora abbiamo tutto Se chiamiamo quindi F di N C Quindi consideriamo i primi N elementi Quindi tutti E abbiamo uno zaino Di capacità C Ovvero la capacità Dello zaino Che avevamo Che abbiamo Questa cosa Darà la risposta Al problema Ok Ultimo step Vogliamo calcolare La complessità computazionale Qualcuno vuole provarci? Posso provare io? Vai Allora M Può essere È uno grande Di O N Perfetto E invece W è uno grande Di C Perfettissimo Quindi La transizione No Sì No I stati sono O grande Di N C Perfetto Il numero di stati È uno grande Di N C Invece La transizione Beh Quello sopra Non fa niente In realtà Anche questo Questo meno Conta In realtà È un'operazione Costante Però è un'operazione Sì Sì E sotto Anche costante Direi Esattamente E quindi Non influisce E rimane Un O grande Di N C Esattamente Perfetto Questo Algoritmo Ha complessità O grande Di N C Ed è Il classico Classico Problema Dello zaino Ok Ci sono domande? Sì Dimmi Credo di non aver capito bene Questa cosa qui Dello grande Se potresti O tu Non so Stefano Qualcosa Potresti Ripriegarla Che non ho capito bene Cioè Nel senso O grande di N E O grande di C A cosa si riferiscono? Tipo O grande di N Quanto sarebbe? O grande di N Adesso senza Poi ti consiglio Di riprendere la lezione Dove ho spiegato Queste cose Sì sì No Sì Però O grande di N È Vuol dire Tutto quello Tutto quello Ok Che per N Che tende a infinito Fratto N Fa una costante Quindi per esempio Perché il fatto è che In questo caso Noi abbiamo detto Che il N Può variare come Uno grande di N In realtà Se vogliamo fare I conti precisi Ok La variabilità di questo È esattamente N più 1 Può assumere N più 1 Valori diversi Invece questo qua Ne può assumere C più 1 Direi Può assumere C più 1 Valori diversi Ok Quindi per carità Puoi fare i conti precisi Ti viene Che ne so Ti verrà N C Più N Più C Più 1 Credo Visto che noi Non ci serve Fare i conti precisi Ci basta Un conto Stimato Usa meglio O grandi O grande di N È qualunque funzione Ok Che per N Che tende a infinito Se tu metti Questa funzione Qua Chiamiamola F di N E la dividi per N Fa una costante Se tu Qua Invece di Questa F di N Generica Ci metti Questa roba Che abbiamo trovato Che è N Meno 1 N Meno 1 Pardone N più 1 Il limite Per N T Infinito Di N Più 1 Fatto N Fa 1 Quindi È uno O grande di N O grande di N Ci serve solo Per Invece di fare Conti precisi Fare stime Di questi conti Perché tanto I conti precisi Non ci interessano Cioè Anche se c'è quel Più 1 Chi se ne frega È un più 1 A noi ci interessa Come si comporta La cosa che ci costa di più Quindi Il fattore Di grado massimo Spero di averti risposto Sì Adesso è un po' più chiaro Poi mi riguardo E ti consiglio Se ti consiglio Sono tutte caricate Ti consiglio di riguardare La lezione Dove spiego queste cose Bene Altre domande? Ok In pratica Basterebbe Solo Esaminare Questi casi Quindi Se PDM-1 È un maggiore Di 2 Di V Faccio La ricorsione Con PDM-1 E V In pratica Quindi questo programma Si risolve in pochissime righe Assolutamente Si Implementare questa cosa Poi escono 5 righe Una cosa del genere Insomma Cioè La cosa molto bella Della programmazione dinamica È che C'è tanto ragionamento dietro Ma poi le implementazioni Sono banali Sono veramente Veramente banali Anche Se andate a vedere La soluzione Che ho scritto io Per il problema Della gara di sabato Quella di programmazione dinamica Perché è lungo Saranno in totale Un'ottantina di righe Ma Rispetto alla difficoltà Del problema Non è così lungo E poi tra l'altro Io Ho uno stile di scrittura Un pochino più prolisso Quindi Se poi Ci si riesce tranquillamente A comprimere quel codice Ok Termino Con Riprendere La soluzione Dell'esercizio di ieri Ovvero Ci chiedevamo Non riprendo Tutto 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 Ma ci chiedevamo Avevamo visto Che gli stati Erano Uno grande Di n quadro E La costo Della transizione Di stato Ci costava L'un n Perché c'era Quell'algoritmo In mezzo Che si chiama Fast exponentiation E Che poi tra l'altro Vedremo Nei prossimi giorni Ok E ho chiesto Possiamo fare di meglio La risposta è sì Perché Ricordiamoci che L'upgrade Quello che faceva E che avevamo Che la velocità dell'accetta Era v Per due Alla v Cioè V per due Alla quante volte Abbiamo fatto L'upgrade E la velocità dell'accetta Ci serviva Per sapere In quanto tempo Accettavamo Un albero Cioè In quanti Secondi Lo Distruggevamo Le altezze degli alberi Le HD Erano al massimo 100.000 L'osservazione Era questa A noi ci servirà mai Tipo Avere una velocità dell'accetta Che è 2 alla 10.000 Perché n Vi ricordo Che era Al massimo 10.000 Ok Ci servirà mai 2 alla 10.000 Come velocità dell'accetta No Perché Beh ad una certa Avevamo detto Che il tempo Che ci mettevamo Era H di I Fratto V per 2 Alla v Ok E Se h Al massimo 100.000 Fratto 2 alla 10.000 Beh fa 0 Ma anche Fratto 2 alla 99.000 Fa 0 E Questo termine Farà 0 Per tantissimi valori di v Cioè il fatto È che dopo una certa Sicuramente Non ci conviene più Fare l'upgrade Dell'accetta Perché l'accetta Già batte l'albero In meno di un minuto Cioè in meno di un'unità Di tempo Ma quant'è questo valore Ma quant'è questo valore Beh Sarà L'arrotondamento Per eccesso Del logaritmo In base 2 Di 100.000 Che è l'altezza massima Tra l'altro Anzi Se proprio vogliamo essere precisi È di 100.000 Fratto V Perché Perché se noi facciamo Un numero di upgrade Maggiore di questi Beh E già Lo stiamo accettando giù In un'unità di tempo Se vogliamo essere Leggermente meno precisi Quindi Sprecare qualcosina Ma in realtà I conti rimangono Cioè comunque Non spreghiamo così tanto Facciamo finta che V sia 1 Quindi è il caso peggiore possibile Che l'accetta inizio Sia veloce 1 E allora ci rimane Che non ci conviene Fare un numero di upgrade Maggiore di 100.000 Se vogliamo essere Ancora molto laschi Una cosa che ci possiamo Ricordare È che tipo 2 alla 10 È Circa 1000 Quindi 10 alla terza 2 alla 20 È circa 10 alla sesta E 2 alla 30 È circa 10 alla nona Questo qua È 100.000 Che è minore Di un milione Allora Sarà Meno di 20 Questo cosa vuol dire Che V Invece di farlo variare Da 0 a N Possiamo farlo variare Da 0 a 20 Perché sicuramente Un attimo che le faccio giuste Perfetto Perché sicuramente Se Se mettiamo 2 alla 20 qua Cioè se abbiamo fatto 20 volte l'upgrade Quindi mettiamo qua 2 alla 20 Beh 100.000 Fratto qualcosa Per 2 alla 20 Fa 0 Sicuro E qui Cioè fa 0 Punto qualcosa Quindi arrotondamento Per accesso Fa 1 E da là in poi Farà sempre 1 Non importa Quanto aumentiamo V Fa sempre 1 Questa era L'osservazione chiave Con questa osservazione chiave Abbiamo ridotto Il numero di Variabili Cioè la variabilità Del secondo parametro Invece che da 0 a N Da 0 a 20 In realtà Se vogliamo essere Un pochino precisi È da Da 0 a Questo qua Gli avevo dato un nome Il massimo di questo Mi ricordo Chiamiamo Il max Degli h No Pardon Massimo su i Degli h di i Lo chiamiamo h grande Ok Questo qua quindi h grande Quindi questo qua L'abbiamo ridotto A N Per Logaritmo Di h Ok La fast exponentiation Non dobbiamo più farla Perché Adesso La fast exponentiation La facevamo per calcolare questo Ma questo ora È al massimo 2 alla 20 Ok Quindi possiamo veramente Fare 2 per 2 Per 2 per 2 Quante volte dobbiamo farlo Al massimo Beh 20 volte Quindi anche questo diventa 1 grande di Log h Allora La nuova complessità Sarà 1 grande di N Per logaritmo Al quadrato Di h Avevamo detto Ieri abbiamo fatto i conti E abbiamo visto che Ci metteva circa 14 secondi Nel caso Cioè Facendo la stima del calcolo Ci metteva 14 secondi Rifacciamo la stima Con questa nuova complessità Quanto viene Viene 10 alla quarta Che è questo n Per Logaritmo al quadrato Di h Logaritmo al quadrato Abbiamo visto che è meno di 20 Facciamo finta che sia 20 20 al quadrato 20 al quadrato fa 400 400 è 4 per 10 alla seconda Quindi sta roba fa 4 per 10 alla sesta Abbiamo detto che Facciamo 10 all'ottava operazione in un secondo Quindi siamo passati da 14 secondi A meno di un secondo Ok Questo era L'osservazione Per Abbassare La complessità computazionale Del Della soluzione di ieri Ci sono domande? Lo prendo come un no? No E vai? No Ho capito Cosa abbiamo detto Più o meno Che W non può andare Più di 20 In pratica Cioè perché se W Va oltre i 20 Stai facendo degli upgrade Che non ti migliorano la velocità Cioè che non ti migliorano il tempo che ci metti Ma quindi Questo si traduce nel programma Come per dire Che ti esclude quella Quella scelta Se hai già fatto 20 Cioè il fatto che nel programma Poi quello che farai È che Il caso in cui fai la mossa Che fa l'upgrade Lo fai solamente se non hai già fatto 20 upgrade Ah ok Nel programma è questo che cambia E questo Perché alla fine è un if Cioè nel senso La differenza tra Il programma Della programmazione di dinamiche di ieri E questo qua È un if in più Ma questo if in più Ti fa passare Il tempo di esecuzione del programma Da 14 secondi A Qua siamo tipo sui 40 40 millisecondi Bello Ok Altre domande Lo prendo con un no Il tempo di esecuzione del programma